Alla presenza della dirigente Antonella Argento del parroco Dondino del comandante dei carabinieri Massimo Campagna si è svolta l'inaugurazione del presso ristrutturato e ammodernato della scuola dell'infanzia e della primiara di Oppolo Giancaxio. Un progetto, afferma il sindaco Migliara, voluto e iniziato dall'amministrazione Portella, di cui io sono stato il vice sindaco e portato avanti con determinazione e impegno da me e dalla mia squadra, tagliare il nastro tricolore per me è stata un'emozione indescrivibile, afferma il primo cittadino, perché ha segnato un nuovo inizio per i bambini di Oppolo Giancaxio. Credo che per un sindaco consegnare una scuola nuova e efficiente all'avanguardia sia uno dei più traguardi significativi del proprio mandato. Questa scuola sarà il luogo dove i miei figli e i bambini di Oppolesi cresceranno, impareranno e inizieranno il loro percorso per diventare donne e uomini pieni di sogni e di obiettivi. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in questo sogno e grazie ai bambini, alle insegnanti e alla comunità presente per avere condiviso con me la mia amministrazione questo giorno speciale, quanto dichiarato da Domenico Migliara, primo cittadino di Oppolo Giancaxio.